Ragazzuoli, sembrava improbabile ma dopo Minecraft ci siamo beccati anche su Brawl Stars con l'onorevole Stepney Eeeh, troppo gentile, grazie mille per l'invito, oggi vi devastiamo tutti, cioè oddio speriamo Allora ragazzuoli, come vedete Stepney ha un account un pochettino bassino rispetto al nostro Ma comunque, con le sue 3721 coppie e 780 vittorie in 3v3, ok? A me ti piacciono le 3v3 rispetto a solo e duo, giusto? Sì, diciamo che sono più old genio come giocatore perché ho risbloccato l'account in questi giorni e l'ho recuperato perché avevo quasi perso tutti i brawler Ok, quindi tu hai giocato quando? Io ho giocato nel 2018, 5, no 2019, 5 anni fa Mamma mia, è pure io solo che ho fatto giusto un pelo più coppie perché ho staccato che ne avevo tipo 20.000, follia totale Piano piano scaleremo la vetta Piano piano, diamo anche qualche consiglio, quindi ragazzi se siete nuovi anche voi di Brawl Stars mi raccomando orecchie aperte e gustatevi il video fino alla fine Siamo in due showdown, tra l'altro in una mappa che c'era anche nel 2019 L'isola in base Esatto, io ce l'ho in inglese, Island Invasion Metterò un brawler leggermente più basso Anche perché quello lì ce l'hai tutto dorato, ma che gli è successo? Ho usato 35.000 monete per renderlo dorato però vabbè Poi me ne vergogno, ma va bene così 35.000 Oh mio Dio, ma che figo questo Sì, questo è, se non sbaglio adesso non mi viene il nome Si chiama Sam ed è una skin di un vecchio pass, 2020 mi sembra Metterò questo perché tu hai 320 coppe, io ne ho 231 Mi sembra perfetto Tutto bilanciato, come dovrebbe essere Se puoi fare un upgrade alla Shelly, qui la svoltiamo L'opzione è gadget che non ho oppure livello 10 Livello 10 Vai Quando sei pronto, vai pronto Pronto, vado D'altro li hai aperti i 100 star drop, sì Li ho aperti però, sfortunatamente, se non sbaglio, una sola leggendaria Oh mio Dio Allora, io quando gioco da solo non becco mai schermate del genere in partita Ok, perfetto Con questi giocatori Siamo spunati nel centro, il che non è proprio il massimo perché con Shelly Noi dovremmo ambire a stare nei cespugli Ah, eccoci, c'è già qualcuno addosso Mi stanno facendo molto male Ok, lo vedo Ho visto, ho visto, ho visto, ho visto Allora, in questi casi la cosa migliore è scandagliare i cespugli E poi andare una volta fatta questa cosa qui Ma questa mappa è super cespugliata Eh sì Però Shelly è la migliore in questa mappa assieme a Bull Dovresti stare in questi cespugli qua e usare la ulti addosso alle persone Certo, te la camperi e gli fai tipo un agguato devastante Esatto E io seguo te che mi sembra sia un pochino più tankoso Oh cavolo No, no, ero io che ho ritirato il mio gadget Cos'è? Sì, no, io sono un pochettino più tankoso però tu sei quello che fa più male Io posso fare cose Uh, qua ci sono delle casse Eh, queste vanno sciuppate, eh Per forza Do una mano ad aprile, controllo qui Tu prendi pure quella, io ti tanko in caso arrivasse qualcuno Ho la ulti molto lontana però, eh Attento a stare dentro i cespugli, ok? Alla ulti lontana? Sì Allora ce la carichiamo Secondo me c'è qualcuno qua, eh Face check, face check al bush Eccoli, sono laggiù Ok Vogliamo andare? Vai, caricati la super il più possibile Quello muore, quello muore Dai, che se te lo crepo Top Ma? Porca vacca No No, no, no Eh, c'hanno 12 power up No, 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 no Allora, qui devi, esatto, caricarti la super così Torna su Eh, niente Troppo ti prendi da lontano però Oh, secondi, eh Qua si prendono trofei importanti Quanti ne hai vinti sui trofei? Sette Sette, ma una domanda Io ho ucciso un robot Ed è diventato una persona Non mi ha dato la kill Sì, praticamente c'è quel brawler Che si chiama Meg Lui spawna dentro ad un robot E poi diventa la sua versione scarsissima Dove per ricaricarsi il robot Deve caricare la super Quindi tu Questo li troverai spesso Perché è molto meta quel brawler In questo momento Devi tirar giù prima il robot E poi lui Lui è facile Perché ha la vita bassa Hey Ti ho visto che non ti sei iscritto al canale E soprattutto Mannaggia te Bevi i tuoi due litri d'acqua al giorno Che ti fanno bene per la tua salute Mi raccomando E non mi pagano per dirvelo Non ho l'etichetta Allora, prendilo tu il primo star power Ok Allora, questi due qua Mi fanno molta paura Brutti suini Quello muore Gli faccio il giro di qua Vai Oddio, però Potrebbe farmi l'agguato Sa tutto? Non sa niente Qua te ne mangi due Allora, consiglio mio Devi andare nei cespugli E proprio quando lo vedi Che ti spawna nei cespugli Inizia a spammare con l'auto aim Ok, ok Oh, questo forse lo eliminiamo Esatto Bravissimo Ho ciò che arrivano Vai tranquillo, aspetta Granate maledette Aspetta che sono lontano Ce li siamo mangiati Madonna, ma Ok Undici ne ho Sono tantissimi Sì Infatti abbiamo vinto, mi sa Aspetta Aspetta che sono lontano, eh Vai tra, vai tra Gli faccio il giro da questa parte qua Madonna, quanto danno fai? Eh, facciamo un dodici power cube Fai un danno che non ha senso Niente Gigi, abbiamo vinto Gli abbiamo cucinati L'hai squagliato No, li hai cucinati tu Hai fatto 43 mila danni Tu sei forte perché a funzione Nici spuglia all'inizio Poi dopo io Vabbè, non è che colpisco da lontano Però quella cosa che lancio Che hai visto che fa malissimo Madonna, quella lì È la svolta di questo brawler No, siamo nel centro Eh, quando siamo troppo forti Ci devono mettere nel centro Eh, ci nerfano Ma prendiamo il sopra? Allora, io andrei sotto Sotto Sì, 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 sì Sento che sarà più fortunato il sotto Prendiamo questa cassa qui Lì c'è un angelo Stai attento che potrebbe saltare fuori dal cespuglio Eccoci qua Che porco Fa molto male quell'angelo Eh Bella boccia No Eh, ci sono due team lì Che stanno facendo cose strane Scappa 8 secondi Non dobbiamo perdere trofei Fuggi Sto tornando, eh Loro potrebbero non sapere Perfetto Ora abbiamo pure due cose Ci conviene star qui Vai, bravissimo No, lo devi aspettare ancora di più nel cespuglio lì Non ti nego che ho un po' paura di essere squagliato Sbagliato Appena entra nel cespuglio Se lui non controlla con l'attacco È tuo Te lo mangi Ok, facciamogli il giro da qua allora Porca vacca No, no Via, via, via Via, via Stai C'ha la ulti anche Oddio mio Eh, quelli Quelli fortunatamente colpiscono abbastanza da lontano Quindi No, no, no Andiamo via Andiamo via Andiamo via Porca vacca Scappa Oh no No, c'hai mille ulti Te lo mangiavi Quasi Quasi, quasi Va bene Terzi ci dà comunque trofei L'importante è non arrivare quarti Se noi arriviamo terzi è già una vittoria Terzi non ti dà la stricco Sì Sì, sì, sì No, te la tiene Te la tiene ma non te la fa scendere E non te la fa salire Eh cavolo Io adesso devo un attimo Riprendere bene tutte le misure Ma tranquillo Normalissimo Appena riniziato Io ti do consigli Allora Con questo brawler Il tuo è rimanere in cespugli Quando c'hai proprio in faccia Inizia a spammare Quando ce l'ho appiccicato Ok Esatto Proprio attaccato Quindi auto aim Senza mirare Esatto Non serve mirare A meno che sei Tipo magari Nell'endgame Ho acceso uno No, non è vero È rimasto comunque di vita Porco Ah, guarda che c'è lì Gioseda Oh, aspetta Ho la ulti però, eh Ok, è la ulti Tu vieni nei cespugli da qui Vengo, vengo da qua Bravissimo Rimani sempre nei cespugli Bravissimo Ah, guarda come ce li siamo mangiati Lesco Era forse invitabile, eh Perché no Ah, molto lo È tuo Bravissimo ste Eh, questo glielo sciuppo Gliel'ho fregato Oh mio Dio Non me l'aspettavo Mi ha spawnato addosso No, è riuscito a scappare Maledetto Aspetta È meno male Preso Non mi faceva fuori Facciamo il giro Non dovrebbe salvarsi Mangiato È lollo È lollito Devastante Cucinato Cucinati ragazzi Ci sei, eh Ci siamo ste Bravo Io non ho mai fatto una ranked Sappi Per ora Guarda, ti farei fare le ranked Solo che c'è un problema Io sono a mito Non posso giocare con quelli sotto Hanno fatto questa cosa qua Giustamente Dai Se no mi smurfavi troppo Oh cavolo Io ho fatto male pure io però, eh Sì Infatti sono scappati Oh, stai lontano Non toccare il lollo Oh, c'è un altro team Oh no, aspetta che respawno la ciambellozza lì Porca vacca C'ho la ulti volendo, eh Mi piazzo in questo cespuglio Hai bisogno? Sì Bravissimo Aiuto Attento Tu tira dritto Tira dritto Bravo Un belleggiamento indietro Bravissimo Rimani lì È perfetto Oh mio Dio Ce lo mangiamo Stai, hai fatto dei movimenti Mi hanno gasato un botto Non hai idea bro Non hai idea come li hai schivati Che succede? Aspetta No Ma cos'è? Tipo Vladimir di League of Legends quello? Non ho mai giocato a League of Legends Quindi non lo so Ok Allora quella salsiccia lì Li puoi tenere alla distanza Quindi qua ha senso magari non usare l'auto aim Se lo vedi fuori dai cespugli Tipo lì vedi Gli sparo già quindi Attento, attento, attento Sì, sì, vai, vai Attento Che tipo colpisce attraverso i muri quello Ah, questo non lo sapevo Porcellino maledetto Eh, fanno pure male Eh sì Mi stanno facendo ricaricarla super Codo Io sto riprendendo vita Sono operati Ma è lo sconto al finale? No No Gli altri sono sotto Oh, aspetta Ha sprecato i due attacchi Secondo me ci conviene pushare quelli sotto Mi sa che sono qua Stes Prova Sinistra, sinistra Sono là, sono là Oh no, ce n'è uno anche qua infatti L'avevo visto Aspetta Ok, li tengo sotto Oh, sto lanciapuzzanghere mi ha già rotto, eh Eh sì Più che altro ti avvelena È la cosa più noiosa Oh, aspetta perché siamo in finale Mi sa qua La smurfiamo Questo di lui? No, ho usato Aspetta, non tirarlo giù Morto? No, perché c'aveva qualcosa per espurare Ah, non dovevo Oh, cavolo E ora? Il server Porci maledetti Eh, vabbè Quasi, quasi, quasi No, vai tra, vai tra, vai tra Prima ho fatto una smurfata in quei cespugli Mamma mia Zitto, zitto Lungo il muro Sero di vittoria che continua Eh, adesso Se sei arrivato a sei Guadagni il massimo dei trofei Quindi guadagni più cinque Ad ogni partita Oltre a quelli base D'altro ho da aprire delle casse Sì, anch'io Super rara Epica Potrei trovare qualcosa Ti prego Ti prego Oh, buona Sprite di Jeanette Va bene Ho ridendo scherzato Abbiamo fatto 40 trofei Tu probabilmente pure di più Oddio, non ci ho fatto caso Però secondo me sì Siamo su 40 Un'altra epica E un altro spray di Chuck A questo giro Ok Vediamo se c'è qualche altra modalità esotica Tipo C'è una modalità che non hai mai fatto No, Basket Brawl Non l'ho mai fatta Non hai mai giocato a basket? No, perché non Da quando ho ricominciato Non mi era mai capitata Potresti giocarti Jesse Jesse molto forte in questa mappa Perché ci sono i colpi collaterali Me lo cambio anch'io Mi metto magari Merle Così faccio la maestria Let me cook Ok Già lo sai che stiamo cucinando C'ho pure la skin Tra l'altro di Jesse Hai le skin di Jesse Non dimmi che hai Barglar Cat Jesse Fammi vedere che skin hai di Jesse C'ho Cavaliere e Draghiera Cavaliere, vai Mamma mia che bella C'ha una vibes di Fortnite È vero Sembra il Cavalirozzo di Fortnite Allora Qui è molto straightforward Devi andare a fare canestro C'è il tiro da 3 E il tiro da 2 Ok Semplice Però ovviamente funziona come Foot Brawl Immagino tu abbia giocato a Foot Brawl Sì Un botto Mi piace tantissimo Comunque mi fa spaccare Perché Jesse Un po' stravica Ha l'occhio tutto storto Ho visto Così Mi fa spaccare Cosa gli hanno fatto con gli occhi Oh no Abbiamo contro Mita Perché questi tryhardano in Basket Brawl Mita sono quelli con il logo viola? No Mita sarebbe che hanno i brawler perfetti per questa mappa Tipo Doug è molto forte Però lo stai difendendo benissimo Bravo Stai Quello è morto Quello lì stai attento a non entrare mai nella bolla Ecco Eccola lì Perché fa molto molto male Ah quindi quell'aggeggio si gonfia Esatto E lui ti fa male L'ho preso da lontano però eh Oh esplode No Ho riuscito a tirare Per poco eh È rimasto con tipo 100 di vita Quello che ho fatto male Ok Me l'ha data? Porca vacca mi ho usato la ulti Sì me l'ha data Come faccio a tirare? Con il tiro normale Cioè esatto così Però Oh No per poco Cosa? Cosa faceva la mia ulti? La tua ulti lancia una torretta Doresti metterla Esatto Lì va benissimo Hai anche la star power Adesso non so che star power hai Ma probabilmente Oh mio dio mi è saltato addosso Eh sì Col brawler si teletrasporta Attraverso un buco nel terreno Che poi rimane E lo possono usare anche i loro compagni Vediamo cosa fa il bro? Aspetta potrebbe tirare Oh ok Grande Grande Bravissimo Ti sfido a leggere quel nome Perché non saprei pronunciarlo Devo spaccargli anche il loro muro E loro diventano molto più scarsi Io gli ho tirato una torretta addosso al tipo eh Era quasi riuscito Ok Riuscite a passare avanti Ok Tua 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 Segna 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 Perfetto Siamo a 4 Si vince con 5 punti Quindi o con un tiro da 3 O un tiro da 2 Due tiri da 3 O tre tiri da 2 Squagliamo questo tipo davanti I got the ball No Orca vacca è riuscito Te la passo? Te la passo? Aspetta Oh cavolo Mi sa che ho fatto un errore No no Hai fatto benissimo Vai Cordelius Mamma mia L'ha predictato E fa da 3 Non ci posso credere Ha vinto Il compagno di squadra casuale Che ci aiuta a clacciarla Ho aiutato di brutto Ti sei frizzato anche te il gioco per caso? No no Mi sono rimasto su match over Mi ho fatto vedere Chi è stata la migliore Allora sappi che Hai fatto più uccisioni di tutti Più danni di tutti E basta Ti piace Brawl Ball O preferiresti cambiare modalità? Come vuoi A me piace È simpatica Vai Facciamo un altro in Brawl Ball Let's go No vabbè Allora devi stare molto attento A quello Sulla sinistra Perché È arrivato a campioni Nelle ranked Quindi è uno che è molto bravo a giocare Quello lo prendo Morto Questo qua Esatto Questo paraca qui Di sotto Ok non mi sembra tanto forte in realtà Sai Te la passo? Lanciala su In alto a destra Non ho potuto farlo Sono stato squagliato Letteralmente squagliato Però rientro Sono dentro Morto il tipo Non è vero Non è vero Ho fatto il tiro alla 3 Allora non devono più far canestro Perché sennò è andata Non l'ho riuscito a prenderlo Ok C'eri quasi ste? Io l'ho lanciata Perché ho detto Ci si prova Mi ha preso Porca vasca Il nostro compagno Gli sta facendo L'emote del pagliato Magari la sta facendo L'emote del pagliato Questa la piazziamo lì L'emote del pagliato Si vede però Che sono unranked Dai No non ci credo eh No no Non lo fa Non lo fa Riusci a passare avanti Lo faccio da 3 Bello Let's go No No non è vero Non ci posso credo No era dentro No dai Nella schermata era dentro Come facciamo a uccidere quello? Non possiamo Si invece Cordelius No 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 Vieni qua Io gliela lancio l'avanti eh Bravo bravo Se cambia poco però Ah ecco perché Ma perché sto laggando Niente Sto laggando Non ci voleva L'ha fatto da 3 Eh sì Maledetto Maledetto for real Calma e sangue freddo Concentrazione Concentrazione Abbiamo anche Ice Abbiamo rotto la streak di vittorie Ma siamo comunque in vittorie positive Stiamo salendo Quindi dobbiamo guardare questo Va bene C'è Ice Una mappa molto 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 interessante Si potrebbe giocare tenendo quello che stai usando te E io vorrei provare ad utilizzare Chuck Ok Qua dobbiamo spaccargli la cassaforte Esatto Allora abbiamo un compagno che se ha Si c'ha la star power È molto forte Quindi potrebbe darci una mano Tu devi cercare di prenderli in questo ponte qui E devi cercare di non farti prendere dal bro là Io invece devo creare una specie di percorso Da seguire con il mio cosino Aspetta che questa la riesco a prendere E qua Provo a darti mano Ah non si può attraversare lì No Oh mio dio Questa mappa non mi era mai capitata in rapina Non ti era mai capitata in rapina? No questa no Per me ci sta Non è male Allora tecnicamente ora se uso questo Stavo quasi per uccidere sti caproni Oh orca vacca funziona Mamma mia quanto è forte sto trenino Aspetta No sbagliato Oh è in base nostra Il cane No Ok andato Perfetto Tu se riesci a caricarti la torretta Sarebbe perfetto Ci manca pochissimo Comunque hanno tutti i personaggi che sparano a cross A pallonetto Ha giampato sulla nostra cassaforte Sì Però stiamo stravincendo E mi sa che c'è Miko nella loro base Sì Ho capito ma è scorrettissimo Quel cosa può attraversare le pareti Guardalo Mi ha ucciso pure Sì No quello lì è fortissimo Se riesce a mettersi il percorsino è fortissimo Ucciso? Preso E il nostro Miko Grandissimo Miko Guardalo lì Non avevo la minima idea di quello che stesse accadendo in base loro Sì sì no Siamo andati noi prima Gli abbiamo fatto un bel attacco E poi c'era la scimmietta Che praticamente ha una star power Che solo per ice Gli fa fare il doppio dei danni ogni volta che salta sulla torre Ma quindi la mappa di oggi per la rapina è sempre solo questa Esatto Ci sono delle mappe che girano Sì per 24 ore mi sembra Non ti fa impazzire questa? Eh no perché io sono un personaggio di terra Non posso scavalcare Quello è morto quasi eh Sì Dovresti tenere il centro qua in mezzo E quando hai la torretta gliela lanci su Quindi Jesse funziona abbastanza bene in difesa Slash attacco in questa zona qua Perché faccio così? Così posso fare il mio percorsino Faccio un colpaccio da qui Preso Rimbalza tutto Mi hanno squagliato Oh mio dio No Devo ripiazzare l'ultimo Ho la ulti Dove gliela piazzo? Eh devi buttarla sulla loro torretta Oppure se la vuoi usare in difesa No ma non usarla in difesa Non conviene Qua in base nostra? Sì Ok Non ho riuscito a fare neanche un danno praticamente Si gode Vediamo se riesco a uccidere quel cactus maledetto No perché? Non volevo spostarmi Ucciso il cactus Butto la torretta eh Vai 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 Bravissimo Aspetta Devo far così Mi hanno distrutta Cani Adesso devo ripiazzare solo la seconda E ci dovrei essere Mi hanno strunato No Ok Perfetto Ora li facciamo danni importanti eh Molto bene Perché io posso teletrasportarmi nella loro cosa Questo cactus Questo cactus sta prendendo una marea di danni eh C'ho una vita Morto Tra l'altro quello che abbiamo contro è a campioni eh Quindi stiamo cioè Stanno giocando contro gente seria Li stiamo Devastando ste Grande ste Let's go Li stiamo mangiando proprio Devastati Non riescono a recuperare Quindi abbiamo vinto Morto Guarisci se li spari addosso Quindi ti è comodissimo per raggiungere un range più importante Vedi che funziona bene il tuo brawler in questa mappa Oh boia Qua ci hai fatto 50.000 danni Lusso 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 Mi piace Allora io direi che questa potrebbe essere l'ultima partita Siamo tornati in streak Siamo tornati in streak E oggi abbiamo perso una partita ste Una sola Veramente cucinando Siamo ai fornelli in questo momento Mi immagino Suri che arriva con un cloche Che sta facendo tutta quella cosa lì Che si dice bravi Chissà se riusciamo a convincere Suri a scaricarsi Brawl Oh ragazzi 8.000 like a questo video E tartasso Suri di tornare su Brawl Anzi di venire su Brawl Stars C'è un tipo in base nostra Mi ha fatto malissimo Aspetta Piazzo questo di qua Sta sparando la nostra base eh Ah ok lo vedo Lo son mangiato Buono 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 Ottimo Ok adesso io inizio a fare dei danni molto importanti Se voglio mettergiare io posso colpire da qua Ok Adesso inizio a fare dei danni molto importanti Let's go Distrutto C'è Black Black lì che c'ha uno di vita Mamma mia quanto è Quanto è illegale il trenino in sta modalità Eh no prima l'ho visto contro di noi Cioè con quei paletti maledetti Sì sì Non lo riesci a prendere Non puoi fermarlo Uh adesso sono danni ingenti Bravo Bravissimo ste Puoi anche sparare all'Eist Perché tanto rimbalzano i colpi Mannaggia Perché il tuo primo colpo fa sempre più danni degli altri Ok Ho la torretta comunque Perfetto Io sto nell'ora a fare danni Bravissimo tu difendi Che sei anche molto forte in difesa Ah cavolo il veleno danneggia pure la cassaforte Eh sì Però non fa tanti danni il loro angelo in realtà Cioè è comodo perché può passare No 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 Sull'acqua Però oltre a quello non è che faccia molto Ti dirò la verità Hanno spaccato una parete là eh Sì 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 ma tanto se noi pushiamo abbiamo vinto Ti butto questa di base sua addosso a lui GG Le abbiamo cucinati ste Cooked Ah che un tipo aveva Non so con quali abilità Però aveva sfondato Proprio la barriera Che normalmente non puoi attraversare Grom è un thrower E la sua ulti Lancia una cosa fortissima Che sfonda tutti i muri Tranne quelli indistruttibili Perché ora In ogni map Oh No ste Che è successo? Ste ho trovato uno star drop mitico Anche io? Davvero? Let's go Let's go Nuovo brawler Ste 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 Brawler epico Larry e Lowry Hai trovato Larry e Lowry? Sì sì No che sfortuna se lo trovavi tipo Cinque giorni fa era il brawler più broken del gioco L'hanno dovuto nerfare Allora vediamo cosa trovo io Ti prego No ste Ste Che hai trovato? Leggendario? No Ti ho trovato uno spray con l'acqua Ste Uno? No Lo spray che non ho mai usato in vita mia gli spray Lo spray la fa un po' scendere No no Lo spray nel nematico lo dovrebbero abolire Nei leggendari nematici dovrebbero togliere i pin e gli spray perché sono illegali Sono d'accordo Sono d'accordo perché sei tutto gasato Dici chissà cosa mi è uscito Imbarazzante Allora ragazzi Come vi ho detto Se facciamo arrivare questo video a 8000 like Chiamiamo anche Suri per giocare a Brawl Stars Sarà molto divertente Ci proviamo Ci proviamo Oh però sto facendo altri giochi eh Anche lui si sta evolvendo Potrebbe essere Il momento giusto nella linea temporale Esatto Per convincerlo Nel multiverso giusto siamo E mi raccomando ragazzi Poi vedrete anche la parte dove Continueremo a giocare sul canale di Ste Quindi mi raccomando passate anche dal suo canale Come al solito Se volete vedere altri miei due video Io ve li lascio qui E noi ci vediamo al prossimo Ragazzi è stato un piacere Grazie Lollo Ci vediamo sul mio canale E nei prossimi giorni Magari riusciremo a imbastire anche una trio Ciao Ciao Ciao